Inizieremo parlando di un esame che mette paura a tante persone, però un esame che può salvare la vita. Sto parlando della conoscopia, quando fare questo esame, che tipo di esame, anche perché ci sono diversi tipi di esame da fare. Insomma ci dirà tutto il professor Stefano Arceri che è tornato a trovarci anche per questa nostra sesta stagione televisiva. È tornato il professore, ci farà compagnia per tutto l'anno il professore, con tutti i suoi consigli. Però prima di iniziare a parlare con il professore vi ricordo come fare ad entrare in contatto con noi. Lo vedete in sovraimpressione il numero di telefono 066508937. Vi ricordo il nostro contatto mail, ormai lo sapete, il mio medico chiocciolatv2000.it. E poi i nostri social sono aperti, Twitter, Facebook, Instagram. Insomma per mettervi in contatto avete mille modi. Allora iniziamo subito perché questo esame davvero mette tanta paura, però è un esame che può salvare la vita. Perché ricordiamo che anche il tumore al retto, al colon, è uno dei più diffusi. 23.000, insomma leggevole donne, 30.000 uomini che ogni anno sono colpiti dal tumore al colon retto. Allora vediamo subito come si svolge questo esame. Allora partendo dal presupposto, innanzitutto grazie per questo invito graditissimo. Partendo dal presupposto che la prevenzione è la medicina più efficace. E come giustamente hai detto, in questo caso soprattutto nei tumori del colon, nel tumore del retto, prendere questo tumore, questa neoplasia, nelle fasi precoci vuol dire guarire in un'altissima percentuale di casi. Hai ragione. È un esame che metteva paura alla conoscopia. Oggi non è più consentito dire che fa paura perché è cambiato un po' tutto. È cambiata la preparazione, è cambiato tutto quello che è. E adesso ne parleremo e vedremo che è un esame che bisogna fare. Allora iniziamo subito, prima parlare della preparazione perché è anche quella che dà un po' più fastidio a tante persone, però parliamo dell'esame insieme. Allora guarda, ha portato tutti gli strumenti. Adesso se tu fai l'assistente, poi se sei di bianco sembreresti proprio una bellissima infermiera. Io faccio la sera, mi manca questo, posso fare tutto. Allora questo è un coloscopio, vedi l'operatore, vedi se si vede la telecamera, può orientare nei vari movimenti e per entrare nel colon, perché come tu sai il colon ha diverse curve. Una volta che si raggiunge, fai conto un piccolo polipo, qui se vedete c'è un polipo, praticamente si esce, distanziate un po' che così lo vedono, si esce con questa sondina, con questo piccolo cosino che è nel canale, ed esce, vedete, questo cappietto. Questo cappio va messo intorno al polipo e poi l'assistente chiude il cappio intorno, va benissimo, sei bravissima, guarda Monica, sei bravissima. Chiude il cappio, passa una corrente, ecco lo stanno vedendo, lo riallargo, così si vede meglio. Prendo tutto il polipo, vai alla base del polipo, il polipo viene praticamente coagulato alla sua base, viene coagulato alla sua base e viene asportato, dopodiché si entra a questo punto con una pinzetta, si esce fuori con questo cappio, si entra con una pinzetta e viene tolto. E si fa analizzare poi, no? E' un esame, la conoscopia è indubbiamente importante, perché? Perché oltre ad essere un esame morfologico, cioè noi vediamo all'interno il colon, ci sono delle immagini bellissime che hanno preparato in regia, oltre a vedere il colon all'interno, vedete qui, abbiamo la possibilità di farlo diventare diagnostico, cioè di andare a dare un nome, un cognome a quello che è all'interno. Quanto dura un esame del genere? C'è bisogno di un'anestesia? Beh, la coloscopia è un pochino fastidiosa perché si insuffla aria, no? Perché l'aria serve a dilatare, a distendere il colon che altrimenti sarebbe chiuso, no? Una volta si insufflava proprio aria compressa, mentre oggi si entra con la CO2, che per esempio non dà tutto quel fastidio di quel gonfiore dopo l'esame, e la CO2 si riassorbe immediatamente. È un esame che dura un quarto d'ora, un quarto d'ora e si fa preferenzialmente in sedazione. La sedazione può essere più o meno profonda, a seconda della sensibilità della persona alla quale si fa l'esame, cioè chi è più tollerante, chi è meno tollerante, chi ha un colon più tortuoso, più lungo, più complesso, per cui questo strumento che deve passare all'interno deve fare più curve, deve spingere un pochino di più e allora si può dosare la profondità della sedazione in superficiale e un pochino più profonda. Abbiamo detto, insomma, è cambiata un po' la preparazione. Parliamo della preparazione, perché questo è un esame 10 minuti. Innanzitutto un pochino di dieta qualche giorno prima, no? L'alimentazione, cosa bisogna togliere? Cosa bisogna mangiare nei giorni precedenti? Esatto. Molti dicono cosa bisogna mangiare. Monica, che ormai è bravissima e sa più di tutti noi sulle coloscopie, Sono andata diretta, cosa non mangiare, è vero. Arriva diretta al punto lei. Allora, cosa bisogna togliere? Bisogna togliere le scorie, almeno un giorno, due giorni prima. Le scorie non sono altro che la verdura, la frutta, la pasta, le patate. Insomma, eliminare un po' di scorie. Bere tanta acqua e poi bisogna fare questa... Preparazione. Drammatica preparazione. Questo liquido, quattro litri erano. Non sono quattro litri, Monica, ti correggo. Sono un litro ormai, con un litro, un litro e mezzo, perché ci sono nuovi prodotti sul mercato che si cominciano il giorno prima. L'unica cosa è che vanno terminati a quattro ore dall'intervento. Per cui se uno ha l'esame la mattina verso le nove, alle cinque di mattina deve terminarlo. Allora, la redazione mi sta segnalando che è arrivata una telefonata dalla signora Anna da Padova in questo momento. Questa signora ha 60 anni e ci scrive, cioè non ho mai avuto problemi con il colon, perché mai dovrei fare ora l'esame? Anna, è proprio perché non ha avuto mai problemi al colon che lo deve fare. Perché la brutta notizia è che il colon di solito non dà segno di sé. C'è una malattia importante del colon, non dà segno di sé se non dopo quando è andato un po' troppo avanti. Allora, l'esame va fatto in un particolare momento della vita. Siccome è un tumore che nasce, si è visto statisticamente, che insorge intorno ai 50 anni, come inizio, poi man mano che si va avanti tende ad aumentare un pochino la frequenza. Allora, a 50 anni, come test di screening va fatto. Monica, quante lettere sono arrivate nelle nostre case dove ci invitano a fare gratuitamente presso le nostre ASL la ricerca del sangue occulto nelle feci? Ecco, in quella fase della nostra vita, intorno ai nostri 50 anni, tu sei molto più giovane, intorno ai 50 anni bisognerà fare questo esame. Come test di screening, come se invece all'interno della propria casa, della propria famiglia, ci sono stati casi di tumore del colon, allora bisogna cominciare prima. Ogni quanto? Ogni anno? Poi va ripetuto? No, no, no. Di solito dai 50 anni si fa intorno ai 3-5 anni, a seconda dei fattori di rischio. Cioè se ci sono dei fattori che predispongono leggermente di più. Ma insomma io direi che la prima si fa 50 anni e poi se ne riparla dopo 5. Abbiamo visto, insomma, è un test, un esame invasivo, sicuramente. Allora, esiste anche un altro tipo di coloscopia, vero professore? Sì, tu mi vorresti portare sulla coloscopia virtuale, questa coloscopia che è un po' radiologica, che vedete qui nelle immagini che adesso vi passano. Qual è la differenza? La differenza è sostanziale, Monica. Poi parli con un chirurgo, io sono specialista in chirurgia generale e sono abituato ad essere molto pratico, ad andare direttamente alla risoluzione del problema. La coloscopia virtuale è un esame sicuramente bellissimo, affascinante, ma è un esame dato da immagini. Sono immagini che vengono elaborate da un computer e ci fanno vedere. È un esame che ci descrive morfologicamente in modo splendido questo bellissimo colon. Ma se all'interno di questo colon c'è un bel polipo, c'è qualcosa che noi potremo immediatamente andare a togliere o a diagnosticare, è un po' una perdita di tempo. E poi se si diagnostica in quella virtuale, che succede? Lo deve rifare? Lo deve rifare, deve rifare la coloscopia tradizionale, cioè quella che si fa oggi con questi strumenti che ho portato, che sono strumenti comunque che sono molto più sottili di una volta, sono molto più morbidi, sono meno invasivi. Quindi io penso di poter dire con assoluta certezza che non ci sono più scuse per non fare una coloscopia intorno ai 50-50 anni. La dobbiamo fare, la prevenzione è importantissima. Allora parliamo appunto di prevenzione. Come dobbiamo mantenere in salute il nostro colon, professore? Guarda, innanzitutto l'alimentazione è importante. L'alimentazione è importante e non mangiare cibi troppo grassi, carne rossa in abbondanza, cibi piccanti e via dicendo. Seguire una dieta. La sedentarietà non fa bene a nulla, anche al colon. Una cosa io vorrei dire, bisogna ascoltare la nostra pancia e ascoltare il nostro colon, perché dei segnali li dà, dei segni li dà e quando li dà bisogna rivolgersi con serenità al proprio medico di base. Quando vediamo che andare al bagno non è più così semplice, così normale, è cambiato qualcosa nelle nostre abitudini, abbiamo un intestino che alcune volte è morbido e altre volte non lo è, che vediamo che andavamo al bagno regolarmente tutti i giorni, invece cominciamo ad andare al bagno un po' più distanziati. Quando per esempio andiamo al bagno in consoddisfazione e immediatamente successivamente abbiamo un'altra volta la sensazione di doverci andare, oppure vediamo delle perdite di sangue. Attenzione, la perdita di sangue è quasi sempre dovuta ad emorroidi, ma non sempre, quasi sempre ho detto, no? Così se le caratteristiche di quello che noi evoichiamo cambia, diventano più sottili, a pallette, io non voglio dire che è tumore, attenzione, è lungi da me da creare terrore, però sono dei piccoli segnali, delle piccole cose che la nostra pancia ci sta dando. A quel punto bisogna andare da uno specialista, bisogna andare dal medico di base e parlarne. Ci ha convinto il professore, grazie, grazie davvero, professor Stefano Arceri.